Nel momento stesso della consegna della Salma allo Stato che avviene appunto al convento di Pavia, alla Certosa di Pavia, viene stilato un documento, il documento di consegna, è un documento, questo, classico, l'anno 1946 a di 12 del mese di agosto, firmato appunto da chi è presente e da chi è protagonista di questo passaggio di consegne, quindi ci stanno le autorità del convento, c'è Vincenzo Agnesina come servitore dello Stato che acquisisce la Salma e sono due paginette in cui si racconta l'apertura del sacco che contiene il cadavere e il ritrovamento anche di un altro documento messo lì dai trafugatori che è poi conservato agli atti, che è questo, dove su carta intestata partito fascista democratico che era appunto l'organizzazione neofascista di cui faceva parte le Cisi e appunto che descrive i passaggi dei luoghi dove poi era stata conservata la Salma di Mussolini prima dell'arrivo alla Certosa di Pavia. La relazione che viene fatta al momento della consegna si sofferma anche su alcuni dettagli che a dire il vero appaiono anche un po' magabri, appunto dove si racconta che si va dove viene conservato il corpo e leggo testualmente in un locale a piano terra dove in un armadio a muro è deposto un bauletto di legno chiuso a chiave, mancando la chiave si forza la serratura e aperto il baule appare tra la segatura un grosso corpo avvolto in un doppio sacco gommato quindi diciamo stata preparata proprio come qualcosa di fragile che viene, che è destinata ad essere spostata e quindi magari a subire colpi e tutto quanto. Padre Alberto apre tale sacco e alla presenza di tutti viene estratta una lettera e appunto è la lettera che accompagnava il cadavere, la lettera sostanzialmente degli autori del trafugamento che raccontano queste peripezie del cadavere stesso, questi vari passaggi nei vari luoghi dove il cadavere era stato nascosto per giungere appunto come ultima tappa al convento di Pavia.